Salve a tutti ragazzi, io sono Vida920 e siamo qui con il terzo appuntamento con Forza Horizon 4 Eravamo rimasti qui, che ci eravamo appena qualificati per l'autunno come vedete l'ambientazione E dovevamo andare a fare una gara sosterrato Andiamoci subito Spero che questa serie vi stia piacendo Siamo solo al terzo episodio ma sembra un bellissimo gioco Eccoci qui, siamo arrivati alla nostra corsa E andiamo all'evento Tutto pronto per iniziare qui Ok, quindi ci chiede di aumentare la difficoltà perché stavolta noi ne stiamo vincendo tutte Dai proviamoci Così ci aumenta anche un po' di crediti Le perderemo sicuramente adesso però Dai Proviamo A via gara dai Sosterrato ricordiamo Si parte E' il muretto in pieno Dai forza Dai forza E ti togli davanti Niente Ci trovata Ci trovata per forza Dai che ce la facciamo Avanti E ne supera un altro No No Oh si Si Quarta posizione Attenzione ci vuole buttare fuori Andiamo a prendere il podio Attenzione ci stanno seminando Ok Prima giro è andato C'è da parare i nostri eroi Più vai Gabri Chi si vede Ok Seconda posizione Forse prima Dai Facciamo sentire il motore Ok Cerca di recuperare Attenzione Siamo su strada Dai No Non cercare Di superarci Allora abbiamo un altro giro Da fare ancora Ah è un po' più difficile Ma sembra che Stiamo facendo lo stesso Dai Pian piano Scaleremo tutte le difficoltà Ok Ultimo giro In acqua E andiamo Non so perché Ma sta sdittando molto meno La macchina Meglio così Andiamo Pronti per la pozzanghera Che ci rallento un sacco Qua è figo Qua è figo Ecco qui Ecco qui Il traguardo E vinciamo anche questa Anche con difficoltà superiore alla media Bene così Ecco il balletto Infatti l'avevamo aggiunto Nell'ultima puntata Vediamo i crediti Dai che tra poco ci compriamo qualche macchina Conti pudenza 3000 Ah quasi livello 3 Di niente Di niente Di niente Voi bella Ok Bene, eh, che più eh? Subito, ah, sì sì, subito, vabbè, sterrato sarà l'ultima cosa che facciamo, quella un po' lontana, dai, andiamo a fare questa qui che è vicina, lo Stuntman, noi ci vediamo direttamente in gara ragazzi. Ok, ci ha sbloccato un punto abilità come avete visto, vediamo che cosa ci dà, la tua auto viene notata ovunque passo, rostini immediatamente due punti influenza, collezione auto, va bene, di solito ce l'abbiamo, sblocca vantaggio. Ok, il resto non parlo perché non abbiamo punti, ed eccoci qui, l'azione per un altro film, altra scena del film, partiamo subito. Vabbè, giocatore singolo per il momento, capitolo successivo, vabbè, vediamo che cosa ci fanno fare. Pronto, pronto. Va bene, andiamo. Abbiamo l'obiettino ovviamente. Allora, sono sette chilometri. Forza! Aspetta che con quest'autunno sempre che piove... Vabbè, fa niente. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati. Vediamo che acrobazie ci fanno fare in questo nuovo capitolo del film. Eccoci qua. Dimmi tutto. Ok. Che macchina ci fai usare? Bella macchina. Tutto pronto? Andiamo a provare questa nuova macchina. Ok, dobbiamo stare attenti a non fare danni, quindi. Mamma mia. La guidabilità, però, non si muove proprio. Quindi stiamo attenti ai danni. Questa ha un po' di sport. Questa ha slitta, questa ha slitta. Attenzione. Non la dobbiamo rompere. Ecco, infatto. Prendiamo. Ah, l'abbiamo scampato. è assai attimo qui l'onzo attenzione la vedo molto brutta la situazione si 280 attenzione i muretti che sono i nostri preferiti attenzione ma si ribalta dai manca poco dai come stiamo a tempo attenzione alla macchina ok no 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 proprio la fine qui da l'alte tutto abbiamo preso bene eravamo quasi arrivati vabbè non è successo niente ok siamo arrivati cosa dobbiamo fare ah tutto eh vabbè ok tre stelle ho ottenute un altro po' di credit e dobbiamo andare a vedere che macchine ci sono così cominciamo a testare un po' ruota della fortuna sbloccata dai che ci siamo quasi ok andiamo a vedere vediamo un po' sulla mappa quindi qua abbiamo completato qui che c'è da fare l'autosalone dove si trova forse qui festival punto panoramico non so dove si trova l'autosalone vabbè ci imbatteremo sicuramente eh vabbè proviamo a bella bella ok non so se sia abbastanza per prendere tutta quella velocità prendiamo la larg azione forza avanti stand down stand down certo in curva però ok vediamo un po' tutto abbiamo preso bene due stelle potevamo fare di meglio abbiamo battuto un albero meglio di cose bene allora ecco appunto allora andiamo a fare una gara su strada naturalmente noi ci vediamo appena raggiungiamo la destinazione ok ragazzi ci siamo quasi siamo arrivati a questa gara su strada eccoci qua e andiamo all'evento pv e vabbè non conosco altri piloti quindi quindi andiamo sempre con giocatore sigo ok vediamo che cosa ok vabbè mettiamo la ford visto che siamo utilizzati a fuori ok ok vediamo su queste sono una macchina ok ok mettiamo il nome del nostro canale ok applicazioni in corso forse progetto eh va ovviamente ok dai andiamo a provarlo va non abbiamo auto infatti andiamo a vedere le auto che possiamo forse non credo proprio abbiamo 2.112 credit 5.000 3.000 l'unica che possiamo comprare è questa qui 7.7 5.5 5.7 va acquistiamo questa nuova macchina va giusto per provare ciò che abbiamo fatto ok che cosa ah ci fa scegliere i design di chi l'ha già fatta ah questa qui è bella e stupenda ok acquistiamo per 70 credit andiamo a vedere questo progetto che abbiamo fatto ancora capita che cosa serve però ok tutto pronto esatto avviamo questa gara cioè l'ha fatta in automatico va bene pronti via proviamo questo nuovo bolide si che ci superano tutti già ho capito che siamo lenti però dai recuperiamoli lascio le possiamo recuperare forse senza che ci ribaltiamo possibilmente ma sono molto più veloci di nuovo comunque muretto checkpoint è fuori uno toglietevi davanti andate via via dalla nostra strada ecco giù per capri e via ok seconda posizione andiamo a prendere anche quell'altro non slittiamo un muretto ci sta sempre asseminando comunque attenzione non ci recuperano gli altri infatti vedo l'ombra lo prendiamo tutto il muretto stavolta il primo è andato e partì ecco anche il secondo che ci dà fastidio e ti toglie niente mi sa che questa è la prima che non vinciamo proprio la nostra gara e se siamo all'80% ormai è molto lontano non si vede più che peccato da ecco l'arrivo non so se dovevamo vincere per forza finale sul podio siamo riusciti ad arrivare primi beh dobbiamo prenderci la mano con questa macchina un altro po' di influenza ok abbiamo sbloccato qualcosa e tra poco sblocchiamo un'auto tra poco addirittura andiamo a sbloccare l'evento invernale ok gara completata e ci sblocca la terza fase e vai ok round 3 ecco qua va bene questa che cosa è esibizione del mostro visto che siamo più vicini qui andiamo noi naturalmente ci vediamo appena arriviamo all'evento eccoci qui ragazzi arrivate a questo nuovo evento e vengolo come al solito e vediamo che cosa dobbiamo fare bellissimo bellissimo questo mostro cosa dovremmo fare in questa una gara di esibizione ok va bene avviamo la gara vediamo che cosa dobbiamo fare ah si parte subito in volata cacchio come fa andare su strada qualcosa ma lo dobbiamo superare bene ma si prende tutta la corsia come fa a superare bello poi li andiamo addosso ok dai che forse lo svegliamo ah eh da dove è uscito e poi mi è mancato ecco lo sapevo ok proviamo dobbiamo andare di qua ok andiamo pronti per il volo andiamo sopra ok io non riesco a capire ancora come fa ad andare su terra però va bene attenzione si insinua ora per ora siamo in prima posizione per ora ecco è tornato gli alberi e compito mi bene eh si un gelosomio moretico possiamo fare maledetto ehi attenzione da un checkpoint maledizione di questi checkpoint cercare di non prendere a lui era l'unico modo forza andiamo facciamoci superare da questa cosa va bene acqua va più veloce lì su strada che dobbiamo prendere il vantaggio forse come arrivate alla fine e abbiamo perso oppure no attenzione un testa a testa alla fine e primo posto è superato all'ultimo assento assento va bene ragazzi direi che per questo appuntamento è tutto vi ricordo come al solito di lasciare like commentare condividere e se non siete iscritti iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo salve ragazzi ciao